L'1 e 16 minuti, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. La situazione difficilissima in Afghanistan in primo piano. I talebani poche ore fa sono entrati nella capitale Kabul. Il presidente Ghani aveva già lasciato la città. Nel frattempo migliaia di persone stanno raggiungendo l'aeroporto per cercare di lasciare il paese e proseguono i voli per riportare a casa diplomatici e funzionari delle ambasciate straniere. Gli italiani sono partiti qualche ora fa con un primo volo a bordo anche alcuni collaboratori afghani. Ma ricostruiamo questa giornata. Ashraz Ghani, ultimo presidente a Kabul, dice i talebani hanno vinto, ora tutelino il popolo afgano, ora sono responsabili dell'onore di tutti gli afghani. Gli integralisti gli rispondono in serata. La guerra è finita, dicono siamo pronti al dialogo con tutte le forze afghane a garantire sicurezza a cittadini e missioni diplomatiche. Ashraz Ghani dice di aver scelto di lasciare il paese per evitare un sicuro bagno di sangue. Una decisione aggiunge risultata difficile. Da qualche ora Ghani, sua moglie e i suoi collaboratori sono a Tashkent in Uzbekistan. I talebani ne chiedevano da settimana le dimissioni come condizione per interrompere gli scontri armati. I talebani sono entrati a Kabul pacificamente, senza quasi sparare un colpo. La bandiera afghana è stata rimossa dal tetto del palazzo presidenziale, dove ora sventola quella del movimento degli studenti coranici armati. Insomma, sta rinascendo l'emirato islamico dell'Afghanistan, dichiarato tale vent'anni fa dal Mullah Omar. Sono entrati a Kabul lentamente. Una volta abbandonato, hanno preso possesso del palazzo presidenziale, da dove Ghani ha tenuto il suo ultimo discorso, hanno iniziato a prendere possesso degli obiettivi sensibili per garantire sicurezza, provocando un caos cresciuto di ora in ora. In città, con migliaia di persone in fuga nella zona dell'aeroporto, dove in serata sono stati interrotti tutti i voli commerciali. Queste immagini sono arrivate da poco. In queste ore chi sta lasciando Kabul sono anzitutto funzionari delle ambasciate, diplomatici, personale della sicurezza. Anche i nostri rappresentanti, poco più di un centinaio, sono in viaggio in queste ore verso Roma, mentre l'ambasciata americana ha chiuso definitivamente i cancelli, scegliendo comunque di lasciare aperta una rappresentanza in città, dove dovrebbero arrivare a breve altri mille militari di supporto, mandati da Washington per l'evacuazione dal paese centroasiatico dei suoi cittadini. Da qualche ora evacuata anche la sede diplomatica saudita. Dopo l'entrata a Kabul dei talebani l'alarme è scattato in mezzo mondo. Domani ne discute il Consiglio di sicurezza dell'ONU, con Joe Biden sempre più nel mirino della critica per quanto sta accadendo in Asia centrale. Veniamo in Italia con la politica. Il tema migranti torna ad attualità dopo le parole della ministra Lamorgese sui rifugiati afghani. Parole che scatenano la reazione di Matteo Salvini. Far fronte a nuovi possibili flussi di migranti ed anche a un possibile rischio terrorismo. Parla così la ministra dell'interno Luciana Lamorgese nelle ore in cui in Afghanistan i talebani irrompono a Kabul. Tutto è avvenuto in pochissimo tempo, dice Lamorgese, che parla a Palermo al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. E adesso la situazione impone attenzione sulle possibili ricadute italiane della crisi afghana. Stiamo monitorando la situazione, assicura Lamorgese, e abbiamo la garanzia da parte di tutte le forze che opereranno al meglio. Come dire, la situazione è sotto controllo, ognuno farà la sua parte, ma l'escalation della crisi afghana non consente ottimismo. Anche per questo tutto ciò che avviene a livello di immigrazione è un problema non solo del Ministero dell'Interno, ma del Governo, nel suo insieme. Il presidente Draghi segue personalmente tutto il dossier, assicura Lamorgese. Parole che scatenano la reazione di Matteo Salvini, che si dice pronto a incontrare la ministra. Così le spiego la differenza tra un ministro che ha difeso i confini e la dignità dell'Italia, e chi invece non ha fatto nulla per Salvini controllare bimbi e anziani, in piscina o in pizzeria, facendo poi sbarcare migliaia di immigrati, non ha senso. Ed è stato un ferragosto di controlli per gli italiani anche nelle località di villeggiatura. Tante le ordinanze comunali che vietano gli assembramenti, mascherine obbligatorie in Sicilia, anche all'aperto, nei luoghi più frequentati. La regione infatti rischia di diventare zona gialla. Intanto oggi i contagi sono in leggero calo, ma il tasso di positività è in risalita al 3,5%. Ordinanze locali e misure anti-Covid. Nel secondo ferragosto, dall'inizio della pandemia, governo e denti locali hanno messo in campo sul territorio ogni misura per evitare il rischio contagi. Con le forze dell'ordine, nei luoghi di villeggiatura e nei centri storici, verifiche mirate per le norme anti-Covid da nord a sud, tanti provvedimenti che vietano ancora per questa notte l'accesso alle spiagge fuori orario. Sul certificato verde si consuma in queste ore un nuovo scontro dopo la conferma da parte del governo dell'obbligatorietà del passaporto sanitario per poter accedere nelle mezze aziendali. I più importanti operatori del settore hanno chiesto un incontro all'esecutivo, rivendicano la necessità di regole più chiare, a cominciare dalle figure a cui spetteranno i controlli. Non possiamo essere noi a farli, dicono le aziende, che temono un ulteriore peggioramento delle loro condizioni. Nodi da sciogliere nella lotta a una pandemia che rallenta, lo confermano anche i numeri di giornata diffusi nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute, sostanzialmente identici a quelli di sette giorni fa, ma con un ulteriore aumento dei posti letto occupati negli ospedali. A crescere sono i pazienti ricoverati nei reparti Covid, ma anche quelli in terapia intensiva. I positivi oggi sono 5.664, meno del giorno precedente, ma a salire, visto il basso numero di tamponi processati, è l'indice di positività che cresce fino al 3.5%. Sono invece 19 le vittime nelle ultime 24 ore. E siamo allo sport, grande affermazione per il tennis italiano al femminile. Camila Giorgi stasera ha vinto il Master 1000 di Montreal in Canada. La 29enne marchigiana si è imposta in due set, 6-3-7-5 sulla cieca Carolina Pliskova, numero 4 del mondo, già sconfitta qualche settimana fa alle Olimpiadi di Tokyo. Si tratta della prima vittoria in un grande torneo per l'Azzurra, che grazie a questo successo passa dal numero 71 al numero 34 del ranking mondiale. E chiudiamo con una notizia tragica, purtroppo, la morte di un grande del calcio mondiale, una leggenda, Gerd Müller, uno dei protagonisti della partita del secolo, quell'Italia-Germania 4-3 semifinale dei mondiali messicani del 1970. Müller, nato in Baviera 75 anni fa, era affetto da Alzheimer ed era ricoverato da sei anni in una casa di cura. Con la maglia della Germania ha disputato 62 partite, segnando 68 reti, mentre con quella del Bayern in 607 incontri ne ha realizzati 566, diventando per sette volte capocannoniere del campionato tedesco. Alla steca contro l'Italia Müller segnò due gol, prima dello storico 4-3 di Gianni Rivera. Con il Bayern ha conquistato quattro titoli nazionali e tre coppe dei campioni. Era l'ultima notizia, l'informazione torna come sempre domani alle 7.30 con il nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.